Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Duomo di Fano gremito per l'ultimo saluto a Jacopo Spaventoso incidente sulla strada del campo d'aviazione Miracolato il conducente uscito in leso Sfugge al controllo e aggredisce i poliziotti Arrestato I pesaresi sempre connessi con la polizia municipale Grazie a Whatsapp Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Miracolato dopo un incidente davvero spaventoso È accaduto questa mattina in una strada pericolosissima a Fano A giudicare dalle condizioni dell'auto Verrebbe da pensare che le sue condizioni di salute sono gravi Se pensiamo poi che l'uomo è stato ritrovato dai soccorritori in un campo Viene da dire, ce la farà? Invece il fanese di 49 anni Che era la guida della Fiat 500 seconda serie Praticamente ridotta ad un ammasso di lamiere Non solo la può raccontare Ma le conseguenze fisiche sono limitate a un trauma cranico commotivo E senza prognosi Ma solo in stato di osservazione Sono le 9.45 di questa mattina E la Fiat 500 del fanese Che procedeva in via dell'aeroporto in direzione Maremonte Stava svoltando a sinistra in via San Michele E viene tamponata violentemente da un autocarro Fiat Iveco Condotto da un altro fanese di 20 anni Per l'urto l'auto viene sbalzata in avanti di diversi metri E finisce per invadere la corsia opposta Cosa questa che di per sé avrebbe portato a conseguenze nefaste Se l'auto fosse stata travolta frontalmente dal tir Che sopraggiungeva in quell'istante in direzione opposta Condotta da un cinquantenne di San Costanzo Invece l'urto è avvenuto contro la fiancata del bisonte della strada Riducendo sì in mille pezzi l'auto E sbalzando fuori dall'abitacolo il suo conducente Che è finito riverso nel campo E soccorso dai sanitari del 118 Che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Fano Ma ridotto di molto anche le conseguenze fisiche Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Fano Per la bonifica dell'area E la polizia per i rilievi del caso E' andata bene anche un automobilista Nell'Anconetano ad Agugliano In località Borgo Ruffini Praticamente uscito illeso Dopo essersi capottato con la sua autovettura Per cause ancora da stabilire Alle 6.30 di sabato mattina Anche in questo caso Vigili del fuoco in azione Per mettere in sicurezza il mezzo Che era alimentato a gas Cattedrale a Fano Gremita di gente Per l'ultimo saluto a Jacopo Monaldi Il giovane di 24 anni di Ponte Sasso di Fano Deceduto in un incidente stradale Se non vivi per qualcosa Muori per niente Questa è una delle due scritte Che al lato del portale del Duomo di Fano Ha accolto quanti oggi Alle ore 15 Si sono ritrovati per salutare Per l'ultima volta Jacopo Monaldi Il 24enne Che ha perso la vita Tragicamente in un incidente Sulla litoranea adriatica Una settimana fa E Jacopo di cose Ne ha vissute molte Nella sua breve esistenza Per vivere quello che hai fatto tu A me ci sarebbero volute due vite Dice nell'omelia Don Giuseppe Cavoli Che ha ufficiato la messa Insieme a Don Enrico Secchiaroli Nell'età adulta Si ha paura di molte cose Continua il sacerdote E rivolgendosi Alla silente e attonita folla Dice Un po' di coraggio da lui L'imparerei Per Don Giuseppe L'applauso finale Della profonda omelia Rivolto al ricordo di Jacopo È una coltellata Perché ciò che fu Questo ragazzone Che portava i surgelati Nelle case Durante uno dei suoi Tanti saltuari lavori Rimarrà per sempre Un esempio per lui Di ostinazione Di forza E di caparbietà Ironia della sorte Il lunedì dopo l'incidente Avrebbe dovuto Finalmente Dopo tanta precarietà Entrare stabilmente In un'azienda agricola Della zona Come sottolineato Anche dalla presenza Dei titolari Alla messa Nel duomo stracolmo Di gente A testimonianza Di quanto Jacopo Ha saputo voler bene E farsi voler bene Da tutti Pezzi della sua vita Gli atleti Che condividevano con lui La passione per la boxe E che hanno portato A spalla fuori dalla chiesa Il feretro A fine funzione Gli amici Che con un ciuffo Di palloncini bianchi Hanno affidato Il loro ultimo saluto Sul sagrato Del duomo E anche il suo Ex capo scout Che dal pulpito Ha dipinto Il carattere combattivo Di Jacopo Che fin da piccolo Mostrava i segnali Di quel carattere Che lo avrebbe portato A fare grandi sfide E affrontare grandi imprese Dice lui Che era come un fratello Maggiore Oltre che capo Era determinato E insistente Talmente insistente Da sfinirti E da farti dire Sempre sì Nelle uscite Che si faceva Con il reparto L'escursione Più difficile Era sempre la sua Sempre la ricerca Di qualcosa di più Come quando Mi chiese Di dargli una mano Per entrare nei vigili del fuoco Una delle sue grandi passioni Ora invece Ha passato quella porta Che è la morte Passata la quale Si prende una grande coincidenza Sottolinea Don Giuseppe Sul significato Della funzione religiosa La coincidenza Per la resurrezione Fuori da quella porta Troviamo la nostra vita Pertanto ora Chiacopo Gli amici La famiglia I compagni d'aventura Ti augurano Buona strada Sfugge ad un controllo E aggredisce i poliziotti È accaduto a Pesaro I poliziotti E la squadra volante Della questura di Pesaro Hanno arrestato Un ventitrenne senegalese Già noto alle forze di polizia Per resistenza E lesioni A pubblico ufficiale E per porto Ingiustificato Di arma da taglio Durante un controllo Antridrogan Al parco Miralfiora Gli agenti hanno notato Due nordafricani Che alla vista della polizia Si davano A una precipitosa fuga È stato intimato Loro di fermarsi E mentre uno dei due Si fermava Per il controllo L'altro cercava Di allontanarsi È stato bloccato Con non poche difficoltà Ha spintonato E colpito al volto Gli agenti intervenuti Procurando lesioni Guaribili in cinque giorni Perquisito È stato trovato In possesso Di un coltello Di piccole dimensioni I due Sono stati accompagnati In questura Dove uno È stato messo A disposizione Dell'ufficio immigrazione In quanto colpito Dall'ordine del questore Di lasciare il territorio nazionale L'altro Che aveva procurato Lesioni agli agenti Intervenuti È stato arrestato E trattenuto Presso le camere Di sicurezza Della questura Oggi pomeriggio È stato processato Per direttissima È condannato A otto mesi di cacere Con sospensione Della pena E rimesso in libertà I pesaresi Da oggi Hanno uno strumento In più Per comunicare Con la polizia Municipale Utilizzando Un'applicazione Che di fatto Abbiamo tutti Sul nostro smartphone Whatsapp La società 2.0 È una società A forte impronta social Talmente social E virtuale Da rasentare L'isolamento Dalla realtà Spesso E a tutti Sarà capitato Di assistere Nei ristoranti Ad intere tavolate Di persone Che nemmeno parlano Tra loro Tanto sono impegnate A chattare E a controllare I social O di zombie smartphone Che deambulano Per le strade Con il capo Riverso Sul telefonino Ma implicazioni Socioculturali A parte Alcune applicazioni Così si chiamano Le funzioni aggiuntive Che si possono mettere Sul telefonino Possono avere Anche un rispolto Molto concreto Sulla nostra vita pratica Può anche essere Uno strumento Per contrastare Situazioni di degrado sociale Di emarginazione O pericoli di truffe A fasce deboli Della popolazione Ora A Pesaro È attivo Un numero di cellulare Il 337 158 2545 Utilizzabile Sulla chat di Whatsapp Per segnalazioni Alla polizia locale Il comando Di polizia municipale Di Pesaro Ha ritenuto Di avvalersi Un attimo Di quelli che sono Anche gli strumenti Tecnologici Che oggi La società Ci mette a disposizione Per avvicinare La pubblica amministrazione Quindi la polizia Municipale Al cittadino In questa fase Ci limitiamo A quelli che sono Quei comportamenti Che creano Maggiore Riprovevolezza Da parte degli utenti Quei comportamenti Che in qualche modo Manifestano Maggiore disvalore Mi riferisco per esempio Al discorso Del parcheggio In spazi riservati Invalidi Parcheggi sui marciapiedi Quindi tutti quei comportamenti Che in qualche modo Creano disagio O grosse difficoltà Alle categorie Più deboli O comportamenti In parchi pubblici O cose di questo genere Ecco Questo è in sostanza Il servizio Che ci proponiamo Di offrire ai cittadini Ed è di pochi minuti fa La notizia Che ci sono buone notizie Per l'istituto agrario Cecchi a Fano Perché c'è stata Un'importante delibera Della giunta regionale Allora per tutti i dettagli Ci colleghiamo con Renato Claudio Minardi Che è il vice presidente Dell'assemblea legislativa Delle Marche Buonasera Minardi Buonasera direttore Buonasera a tutti Allora quali sono le novità Per quanto riguarda L'istituto Cecchi L'istituto agrario Diciamo che si chiude Definitivamente questa vicenda Nel senso che La giunta regionale Oggi pomeriggio Ha dato il via libera Alla presenza Della sede distaccata Dell'istituto agrario E professionale Cecchi di Pesaro A Fano È un importante risultato C'era stato Inizialmente un parere contrario Perché c'era Un parere contrario Dovuto ad una lettura Un po' troppo rigida Di una circolare Del ministero Io che faccio parte Della prima commissione Abbiamo dato Alla giunta regionale Per l'approvazione Definitiva della delibera Un parere condizionato Affinché E questo è un parere Dato in unanimità Dalla commissione Affinché la giunta Tenesse conto Di una serie di aspetti Che riguardano i cechi Il fatto Che sulla sede Distaccata di Fano C'era un accordo complessivo C'è la provincia Il comune di Fano Il comune di Pesaro Gli istituzioni scolastiche I sindacati C'era un accordo generale È l'unico istituto agrario Della provincia E da problemi Di edilizia scolastica Perché è sovraffollato Nel senso che Ha una continua Richiesta di iscritti Anche dall'Emilia Romagna Quindi Questa sede di staccata Non solo è Un risultato importante Per Fano Ma è anche Una risoluzione Ai problemi Che ha il cechi Nella sede di peso Quindi io credo Che il parere Che abbiamo dato Non credo Era condizionato La giunta regionale Ne ha tenuto conto E quindi Oggi pomeriggio La giunta ha deciso E ha deliberato L'ok Il via libera Alla sede di staccata Del cechi Nella nostra città di Fano Ecco Telegrafico Minardi Che cosa E quando A livello di tempi Si potrà dunque Avere questo istituto operativo Beh questo adesso Il dimensionamento scolastico Riguarda il prossimo anno scolastico 2017-2018 Adesso con l'ok Della regione Le istituzioni scolastiche Dovranno fare i passi successivi Bene Grazie a Renato Claudio Minardi Vice Presidente Dell'Assemblea Legislativa Delle Marche Buonasera Allora I pesaresi Abbiamo detto Il Presidente del Consiglio di Peso Scusate Andrea Nobili Ha salutato Deborah Giraldi Che Da mercoledì Primo febbraio Rivestirà Un nuovo Importante ruolo Di dirigente regionale Con le delega Di servizio E affari Istituzionali Integrità Le dipendenze Del Presidente Luca Ceriscioli Anche la consigliera Edda Bassi Del Movimento 5 Stelle Ha annunciato le sue dimissioni Per motivi di lavoro Anche lei Per lei Un mazzo di fiori Dal Presidente Andrea Nobili Al suo posto Subentrerà Francesca Frenquellucci Torriamo a Fano Invece adesso Per parlare di turismo Perché Ci sarà questa seconda tappa Per parlare Di Questa volta Di infrastrutture Di strutture Ricertive Per migliorare Appunto Il turismo Nella nostra città Vediamo Allora Assessore Continua questo percorso Esplorativo Sulle possibilità Che il mercato Può rappresentare Per una città Come fa Sì È la seconda tappa Di tre previste Di appuntamenti Che appunto Come diceva lei Indagano Vogliono ragionare Con esperti del settore Ma anche con gli operatori Del territorio nostri Ma anche I studenti E coloro che approcciano Il tema del turismo Le possibilità Di questo territorio La prima tappa Ricordo che Si è occupata Dell'identità Della città A livello turistico Del nostro territorio La seconda Si occuperà Di un tema Importantissimo Che sta tra La normale amministrazione E la programmazione turistica Che è quello Delle infrastrutture E delle strutture Per il turismo Che chiaramente Sappiamo essere anche Infrastrutture e strutture Che servono tutto l'anno I cittadini Quindi è una duplice valenza Per questo All'appuntamento Interveranno tutti gli assessori Oltre il sindaco Ovviamente Per fare il punto Della situazione Per raccontare I progetti Che in questi due anni e mezzo Abbiamo messo in campo Le visioni Che abbiamo maturato E per confrontarci Con Guido Castellini Che è un manager Di fatto Oltre che essere Un docente Di molti master Specializzato Per lo sviluppo E rilancio Di attrezzature Ricettive Di accoglienza Sta studiando Ovviamente L'abbiamo contattato Il tema di Fano A noi interessa Calarci nella realtà Al di là Di teorie generiche E quindi Ci darà un suo contributo Come ha fatto Iarca Nel primo appuntamento Parlando dell'altro tema La terza tappa Sarà sulle manifestazioni Del turismo Su cosa vale la pena investire Su che target Interessare Per poi fare il punto Di quei questionari Che stanno tornando indietro Dopo il primo appuntamento Con interessantissimi Spunti E consigli Questo avverrà anche Per il secondo E il terzo appuntamento E costituirà Una base Di considerazioni Utili Per un piano strategico Partecipato Per il turismo Che la città Non ha mai avuto Che ci considerà Meglio Perché molti occhi E molte orecchie Servono Per dare consigli migliori Sapere i nostri brand Capire su quali assi Intervenire Che risorse attivare E adesso andiamo A San Benedetto Del Tronto Dove gli agenti Della sezione antidroghe Della squadra mobile Hanno arrestato Un albanese di 24 anni E la sua compagna Di 22 Per detenzione Di sostanze stupefacenti E fini di spaccio La coppia è stata controllata All'uscita del casero Della 14 Di San Benedetto Del Tronto A bordo di un'autovettura BMW Durante la perquisizione Sono stati trovati 109 grammi di cocaina Nascosti Nella borsa Contenente gli effetti Della figlia Di 6 mesi L'uomo è stato Rinchiuso Del carcere Di Marino Del Tronto La donna È stata posta Agli arresti Domiciliari E adesso invece Andiamo a Camerino Dove oggi C'è stata la visita Del Presidente Della Repubblica Mattarella Avete diritto A tutto l'aiuto Possibile A tutto l'aiuto Delle altre Istituzioni Aiuto che si cerca Di garantire in pieno Lo ha detto A Camerino Parlando con i sindaci Dei comuni terremotati Il Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella Una condizione così Mette a dura prova La resistenza psicologica Dei vostri concittadini Ha aggiunto Mattarella Parlando delle ripetute Scosse di terremoto E voi siete chiamati Pur essendo partecipi Della loro sofferenza Del loro disagio Della loro difficoltà A dare una risposta A dar loro Una prospettiva A darla Non verbalmente In maniera illusoria Ma in concreto Il sindaco Il sindaco invece Di Cingoli Filippo Saltamartini Ha abbandonato L'incontro In rettorato In segno di protesta Contro la scelta Di far parlare Un solo rappresentante Dei sindaci E adesso invece Torniamo a Fano Sono iniziati Oggi Gli allestimenti Delle tribune Per il Carnevale 2017 Che trasformeranno Come sempre Viale Gramsci Nel Sambodromo Fanese Dove sfileranno Il 12 Il 19 Il 26 febbraio I sei grandi carri Allegorici Di Cartapesta E le mascherate E naturalmente Il Viale Come sempre Sarà pronto Ad accogliere Migliaia E migliaia Di persone Ci fermiamo adesso Invece Per lo sport La linea va A Matteo Del Vecchio Grazie Marco Buonasera a te E ai telespettatori Di Fano TV La pagina sportiva Di questa sera Come di consueto Si apre con il campionato Di Lega Pro E con l'Alma Juventus Che nonostante Il cambio di allenatore Non è riuscita Ad interrompere Il trend negativo Di sconfitte La sfida di ieri In casa del Padova Che segnava l'esordio In panchina Di Agatino Cuttone Non era certamente Una gara semplice Dal quale ripartire In cerca della salvezza E il 3-0 finale Ha messo in luce Tutte le differenze tecniche Tra i padroni di casa E i fanesi Le prime avvisaglie Di una domenica nefasta Già al settimo Quando Dettori Centra l'incrocio dei pali Ad Andrenacci battuto Stessa sorte Che tocca poi anche Ad Emerson Al dodicesimo E al ventesimo Il gol Per i patavini È comunque nell'aria E nonostante Un paio di sortite offensive Ad opera di Gabbianelli I biancorossi Trovano la rete Dell'1-0 Con il brasiliano Neto Pereira Al trentaseiesimo minuto Nonostante i 23 punti Che dividono le due squadre In classifica L'Alma Dà l'impressione Di poter contrastare Le scorribande locali Ma con Gualdi prima E Masini poi Pecca di imprecisione E viene nuovamente Punita al decimo Della ripresa Da Altinier Che insacca da due passi A mettere la parola Fine al match Nonostante manchi ancora Mezz'ora alla fine Cappelletti Che al quindicesimo Gonfia la rete di testa Su angolo di Emerson Al Fano Che oggi ha ufficializzato L'acquisto Dell'ex cosenza Alberto Filippini E al neo mister Cuttone Non resta che Rimboccarsi le maniche E cercare di sfruttare Al meglio Il doppio turno casalingo Contro San Benedettese E Teramo Per cercare di uscire Da una situazione Che vede i Granata Ultimi a quota 16 A tre punti Dai play out E a sette Dalla salvezza E chi invece Passi in avanti Verso la salvezza Ne ha fatti Nello scorso weekend Sono Alma Juventus E Deta Beta Nel campionato nazionale Di serie B Di calcio a 5 Gli All Blacks Di Francesco Ferri Dopo il bel pareggio Di settimana scorsa In casa della capolista PSG Potenza Picena Sabato hanno fatto Un sol boccone Del fanalino di coda Cus Macerata Superato al circolo Tennis Trave Per 6 a 1 Da segnalare La prima rete In serie B Per il classe 99 Roberto Abbruciati Bel pareggio Per l'Eta Beta Invece Nell'anticipo Di venerdì In casa Del Torre Savio Cesena Il 4 a 4 finale Però è macchiato Dal parapiglia Innescato a 23 secondi Dal termine Che ha portato All'espulsione diretta Di Galvao e Palazzi E all'ammunizione Del diffidato E Tai I tre Assieme agli indisponibili Bruni e Pietrelli Non potranno quindi Prendere parte Alla delicata sfida Di sabato prossimo Contro il Cusancona In classifica Alma ha 17 punti Ad una sola lunghezza Dalla salvezza Dove stazione Il Buldo Glucrezia Prossimo avversario Dei Fanesi Ed Eta Beta Terza ultima A quota 14 Ma con una partita Da recuperare Spostiamoci ora Al campionato femminile Dove in serie A Il Flaminia Torna con tre punti Dalla trasferta In casa Del Boulé Sport Village Ginovara Riuscendo così A mantenere Il secondo posto In classifica A due lunghezze Dalla capolista Rambla Padova Per le Fanesi Vittoria in rimonta Per 3 a 2 Grazie al gol Di Capitano Sara Berti E alla doppietta Di Berdini E dalla vittoria Del Flaminia Nel campionato Di calcio a 5 Femminile Passiamo a quella Del Fano Rugby Che ieri ha iniziato Nel migliore dei modi Il proprio cammino Nei playoff Promozione Per la serie B Quella andata in scena Ieri al Falcone Borsellino Non era una semplice partita Bensì un appuntamento Con la storia Per la società Del presidente Livi Che per la prima volta Si trovava a disputare La pool promozione Di fronte al solito Numeroso E caloroso pubblico I ragazzi Di Franco Tonelli Non si sono fatti Tradire dall'emozione E hanno superato Il Banca Marche Macerata Per 28 a 24 Di Sebastian Canapini Alessandro Gasparini E Nicola Cadeddu Le mete Che hanno consentito I Rosso Blu Di portare a casa 5 punti Ed interrompere così Una striscia Di 4 sconfitte consecutive Apriamo ora Una piccola parentesi Dedicata al volley Con il bel riconoscimento Conseguito dalla Virtus Volley Fano La gloriosa società fanese Infatti Dal 7 al 12 giugno Prossimi Ospiterà le finali Nazionali Del campionato Under 18 maschile Evento a cui partecipano Gli atleti più promettenti D'Italia E sempre in tema di volley Ieri Sono state rinnovate Le cariche Del consiglio direttivo Della FIPAV Pesaro Riconfermato alla presidenza Fabio Franchini Mentre consiglieri Sono stati eletti Isabella Patrignani Giocatrice del volley Piagge Franco Passeri Dirigente dell'Urbania Giancarlo Sorbini Presidente della Snoopy Pesaro E Massimo Gabbianelli Della società sportiva Adriatica Fano Chiudiamo la pagina sportiva Di questa sera Parlando di badminton Perché nello scorso weekend A Milano Si sono svolti I campionati italiani assoluti Medaglie di bronzo Per il 21enne fanese Matteo Bellucci Stoppato in semifinale Dal compagno di squadra Fabio Caponio Per 2 a 1 Per Bellucci Che pochi mesi fa Aveva vinto il torneo Internazionale di Santo Domingo Ennesimo risultato di prestigio Che lo conferma Tra i primi 300 Al mondo E con i complimenti A Bellucci Per questo ennesimo risultato positivo Si chiude la pagina sportiva Di questa sera Vi ricordiamo come sempre L'indirizzo mail Al quale potete inviare Le vostre segnalazioni Che è sport Chiocciola Fanotv.it Da parte mia Della redazione sportiva È tutto L'augurio a tutti voi Di una buona serata Bene Grazie Matteo Del Vecchio Della redazione sportiva Per questi aggiornamenti Adesso andiamo invece A festeggiare Una centenaria Si tratta di Zelmira Berti Sentite come canta I signori Nel giardino Passegando Un momentino Passegando Poco a poco Ritornando All'uno luogo Ecco Bravo Bene Complimenti davvero Anche perché è stata Festeggiata Da tanta Tanti amici Tanti parenti E allora Auguri anche da parte nostra Il Tg è finito Grazie per aver seguito Occhio alla notizia A domani Grazie a tutti